Gesù ha già marito noi e lui ci farà capire in questa mattina perché chi non parla l'italiano non parla l'italiano, non parla il tedesco, parla il francese, parla il tedesco non parla la margessi lingua, ma il Signore è colunico e fa capire chi usa Alleluia 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 che impedisca la vostra Tutte messe noi Alleluia 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 Close your eyes Close your eyes And pray from your heart Jesus can speak to your heart right now He's speaking to your heart Alleluia Alleluia Oh, alleluia Yes, sí, 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 senyor Sí, senor Yes Oh, alleluia 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 incommige il tuo amico in nome di jesus c'è una malificazione che ha portato il fratello c'è una riflessione e una domanda a peggio e a dompile una semplice domanda come saprò se fa lo cielo come sono, se sono salito se tu credi, se tu m'accetti, se tu riceri se tu lascia il mio entornare nella tua vita se tu lascia il mio, che vale il pezzo se tu lascia il mio, che vale il pezzo se tu lascia che il Signore entra il tuo cuore se tu semplicemente chiudi gli occhi mi dice al Signore Signore, sono qui e vi consiglio a te di lasciare un interventibile e vivere non soltanto la tua vita, ma ogni cosa che appartiene a te.